buongiorno vincenzo buongiorno buongiorno piacere di conoscerla e di averla qua con noi oggi piacere mio allora vincenzo io come ha avuto modo di vedere anche un po dall'introduzione abbiamo provato a creare un attimo un contesto di riferimento introducendo dei temi particolarmente attuali legati al concetto di sviluppo e abbiamo ripreso un po i temi anche dell'etica dell'innovazione che in qualche modo sono anche una sorta di anagramma dell'incubatore che tu rappresenti incubatore sei nasce proprio da questa diciamo da questa vocazione vorrei che tu ci aiutassi un po a capire la genesi perché a un certo punto della tua carriera professionale hai deciso di far nascere un ennesimo incubatore perché ce ne sono già diversi ma con una connotazione un posizionamento molto molto specifico sì 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 assolutamente ormai abbiamo superato le 200 unità come incubatore in Italia in realtà il progetto viene un po da lontano viene da una serie di professionisti prima parliamo della fine del 2019 la maggior parte di noi stava lavorando in diversi ambiti nel nord Italia e chi in finanza innovativa chi invece è nella parte più operativa dell'aspetto imprenditoriale abbiamo deciso di creare una struttura che fosse un incubatore per aiutare i giovani della sud Italia in generale ma per portare il rilancio del territorio attraverso la creazione di impresa cioè il punto di partenza è questo noi crediamo che si parla generalmente di aria interna e per il rilancio delle aria interna dobbiamo partire da creare impresa da creare dei luoghi nei quali i giovani abbiano piacere a ragionare a pensare a ipotizzare delle idee soprattutto abbiano la possibilità di poterle poi concretamente realizzare con dei team specifici quindi diverse professionalità complementari rispetto alle esigenze di una startup si sono messe insieme l'acronimo è sei sostenibilità etica innovazione il punto il focus è questo se vogliamo parlare di creazione d'impresa nelle nostre aree non possiamo a prescindere da questi da questi aspetti da questi vettori quindi innanzitutto la sostenibilità che ora è comunque un tema mainstream a livello mondiale è fondamentale nei nostri territori noi dobbiamo avere la misura dell'impatto delle nostre azioni sulle generazioni future che è un po' quello che è mancato magari sulle generazioni precedenti l'etica altrettanto è un elemento essenziale nelle nostre scelte il benessere dell'uomo il benessere del dipendente si è parlato appunto del benessere dell'individuo è un elemento essenziale l'innovazione allo stesso tempo è complementare perché non possiamo immaginare di fare oggi impresa senza considerare l'innovazione un fattore Vincenzo tra l'altro diciamo il tema delle aree interne e tu hai toccato due temi importanti il tema delle aree interne e il tema della responsabilità delle generazioni future dette oggi sembrano anche come posso dire delle nuove sfide che però hanno radici lontane perché se pensiamo anche alle antiche popolazioni nativi americani uno dei motti più famosi che può fungere ad esempio era che loro ereditavano la terra dai loro antenati ma la prendono in pestito dai loro figli ecco questo concetto che era molto cristallizzato molto come posso dire consolidato nei popoli nativi americani pare che noi nel tempo ce lo siamo persi no mi fa piacere parlare invece della tua iniziativa perché in qualche modo pone di nuovo l'accento sull'importanza di mettere a disposizione creare sviluppo in territori che noi stiamo prendendo in prestito dai nostri figli ma non che abbiamo ereditato e quindi ci spettano di diritto ecco quindi la tua iniziativa da questo punto di vista è particolarmente meritoria perché riporta l'accento su un tema che però non è diciamo può sembrare scontato ma non non lo è stato per tanto tempo. Assolutamente noi infatti scherzando diciamo andiamo in un territorio col motto del get back in un territorio che invece era più focalizzato su take it all quindi siamo proprio realmente all'opposto dei due paradigmi in realtà andiamo con un punto di vantaggio perché rispetto all'introduzione che voi avete fatto sul concetto di sostenibilità in particolare per le PMI nelle startup è più semplice perché nelle startup in realtà noi non andiamo a dover riconvertire un modello di business ma andiamo a lavorare per la creazione di esso quindi ci sono degli step che sono intuitivi quindi nella logica di avere di compiere delle azioni che portino al rispetto dell'ambiente e delle persone però in realtà altri sono controintuitivi quindi noi che facciamo? Inseriamo all'interno della maturazione delle startup un sustainability manager una persona che strutturata riesce a guidarla quotidianamente nelle scelte strategiche operative che la startup deve compiere quindi siamo agevolati da questo punto di vista e contribuiamo a quel percorso di consapevolezza che è essenziale perché molto spesso ci troviamo di fronte a delle persone che non hanno non coppiano scelte con consapevolezza quindi non c'è nemmeno una volontà di mancare del rispetto di non agire secondo quelle che potrebbero essere degli obiettivi sostenibili ed etici c'è proprio una necessità di cultura da questo punto di vista quindi ritornando al discorso delle generazioni passate magari in alcuni casi è stato anche questo deficit culturale a incidere nel loro approccio volevo chiederti allora quando si parla di territori delocalizzati e quando si parla di incubatori il modello sotto certi aspetti è o gli incubatori sono inseriti all'interno di contesti tra dove si sviluppa l'innovazione o l'incubatore all'interno di filiera all'interno di contesti in cui può interconnettersi col sistema col sistema che ovviamente fa sviluppare le competenze consente poi anche l'integrazione consente la contaminazione e così via ovviamente andando su territori non interconnessi in forma diretta il digitale sicuramente è un asset importante perché consente interconnessi con il resto del mondo però è chiaro che ci sono delle maggiori complessità se ci sono delle opportunità da un lato ci sono sicuramente delle complessità dall'altro che vanno superate assolutamente stefano è colto nel segno c'è la difficoltà nella creazione proprio della rete perché c'è assenza dei nodi quindi quello che noi stiamo cercando di creare con l'incubatore è proprio diverse spazi dialogo che sono abba di innovazione dove i primi due sono su Avellino il terzo sarà su Benevento e così via via andremo di tutte le città del sud Italia per iniziare a lavorare su questo aspetto che è essenziale se vogliamo parlare di rilancio del territorio chiaramente un'iniziativa singola può può portare un contributo enorme per quel territorio ma non vogliamo andare più su qualcosa di di sistemico e il digitale ci aiuta perché ci consente di seguire le startup sulla nostra piattaforma proprietaria quindi questo qua è un elemento essenziale e allo stesso tempo abbiamo un approccio che diciamo su diversi vettori quindi c'è la parte della creazione di impresa delle startup pure poi c'è la parte invece che è legata all'open innovation con le PMI tradizionali del territorio e c'è un altro elemento che sta diventando sempre più un focus centrale che molto spesso ci troviamo in territori che anche se stimolati non sono in grado di raccogliere le potenzialità quindi abbiamo creato una nuova branch che è un venture builder che si distanzia un po' dal classico modello di venture builder e diventa anche diciamo più in ottica della valorizzazione del territorio quindi considerando delle opzioni che possono essere pubblico e privato se non solo iniziativa privata però parliamo sempre di iniziative imprenditoriali. Vincenzo quest'anno si è da poco conclusa la la col Demetra no la quale diciamo ho avuto il piacere l'onore di partecipare in giuria quindi ti ringrazio ancora una volta anche pubblicamente per avermi voluto diciamo tra i giurati per assistere a una serie diciamo di iniziative molto interessanti tu sai che io sono particolarmente come posso dire proiettato sul mondo dei giovani delle nuove iniziative perché ritengo effettivamente che siano una spinta di energia e anche di supporto al cambio di mindset. La col Demetra che è un po' la prima col dell'incubatore 6 si è conclusa quindi da poco e nel corso della col io ho avuto modo di diciamo di assistere a una serie di presentazioni interessanti. Volevo porre l'attenzione sulla startup vincitrice tra l'altro che rappresenta anche un po' l'emblema del diciamo della missione che ti stai portando che sta portando avanti l'incubatore perché ha portato diciamo a una una sua iniziativa che in qualche modo si entra a pieno titolo nel nel tema dell'economia circolare. Assolutamente la startup vincitrice è la sintesi del lavoro svolto fino ad oggi noi hanno seguito abbiamo seguito 24 startup di cui ne abbiamo costituite abbiamo aiutato a costituire le cinque startup innovative quelle vincitrice e l'orto custode l'orto custode è focalizzata su un Gesuardo della provincia un paesino nella provincia di Avellino è un focus preciso il recupero dei frutti e insomma degli ortaggi che sono istinti o in via di istinzione e che hanno una particolare diciamo caratteristiche per quanto riguarda i valori nutrizionali. Loro hanno creato questa nuova farm quindi 4.0 dove ci sono tutta una serie di processi all'interno per il monitoraggio della cultura quindi parliamo non so dall'IoT cloud il quaderno di campagna digitalizzato quindi quello che sta accadendo è che un'attività che è del tutto tradizionale in realtà viene svolta con un livello di innovazione potentissimo e le possibilità che anche la banca del germoplasma che stanno mettendo in piedi e stiamo mettendo insieme alla startup è un elemento essenziale se immaginiamo il focus principale è stato sui grani antichi della startup quindi quei grani che hanno un basso contenuto glicemico e vanno diciamo sono molto utilizzati in diete per persone che hanno magari particolari problemi dal punto di vista della della salute quindi diciamo che per ora un incubatore che è nato da poco operativamente da un anno e mezzo è riuscito a raccogliere le energie del territorio e concentrarle all'interno di un unico spazio questo era l'obiettivo che ci eravamo dati all'inizio e per ora sembra procedere con con successo quanto la scalabilità è il vostro il vostro modello cioè allora ogni tanto c'è un po una narrazione eccessiva sul concetto della scalabilità che sotto certi aspetti strettamente correlato col termine startup startup uguale scalabilità unicorno e così via esiste come dire la nuova impresa una nuova impresa innovativa che nel modello comunque si chiama startup che non necessariamente ha nella iperscalabilità il modello intrinseco lavorate su questa dimensione c'è una logica su cui vi siete impostati o il vostro imprinting è startup uguale scalabilità modello di crescita esponenziale no no serve con assolutamente la scalabilità a noi interessa relativamente siamo concentrati più su una crescita armonica della startup quindi non inseguiamo l'unicorno per estremizzare il discorso magari e capirci meglio ma vogliamo più che una realtà nasca all'interno delle aree interne con delle difficoltà maggiori rispetto ad altri luoghi ed è inutile andare a raccontarci quali però abbia tutti gli elementi per poter resistere a quelli che sono i cambiamenti sia macro che che micro che possono accadere nello sviluppo della propria startup quindi il modello che abbiamo creato è focalizzato su una crescita armonica della startup benissimo replicabile scalabile va bene ok però il benessere della persona è il focus principale quindi si può star bene anche con la propria azienda che riesce a restituire il proprio il proprio reddito necessario insomma è un po' quello il modello che ora viene definito delle startup cammello quindi le startup che lavorano a piccoli passi perché soli i piccoli passi consentono di mantenere quell'equilibrio e quella sostenibilità sulle varie dimensioni la scalabilità spesso disruptive può lasciare indietro il rispetto di altre dimensioni quindi assolutamente mi sembra molto coerente proprio la missione di essere un un diciamo un veicolo di sviluppo del territorio da parte dell'incubatore un'ultima domanda vincenzo che io vedo che il tempo è volato siamo proprio però un'ultima domanda la vorrei fare stefano meno che non vuoi fare anche un'altra un'altra domanda incubatore sei una realtà giovane ha già cominciato a catalizzare una interessante diciamo un livello di interesse da parte di vari stakeholder del territorio quest'anno è stata presente anche smau ha avuto anche diciamo una una vitrina importante smau volevo un po capire con te quali erano poi i prossimi passi prossimi progetti le prossime iniziative che incubatore sei sta mettendo in campo per questa fase post pandemica so che avete aperto nel periodo di pandemia quindi diciamo iniziativa nata in un periodo molto complicato ora finalmente arriva il momento di poter rilanciare sì siamo stati dall'inizio pensavamo sfortunati poi in realtà ha aumentato quel percorso di apertura e di flessibilità necessario per chi fa imprezza noi abbiamo raggiunto teoricamente i requisiti per diventare incubatore certificato quindi sicuramente lo step successivo che faremo presenteremo formale richiesta per essere riconosciuti come incubatore certificato dopodiché subito siamo in piena non in piena campagna di crowdfunding ma stiamo preparando la fase preliminare alla raccolta sulla piattaforma di crowdfunding per inseguire quel modello di replicabilità e soprattutto per rinforzare la struttura la struttura aziendale allo stesso tempo lanceremo lanceremo una call for ideas che è un elemento che noi riteniamo comunque essenziale per raccogliere l'energia del territorio quindi come approccio in ogni nuova città dove andiamo nuova provincia nuova area territoriale poniamo i giovani di fronte alla possibilità di dire ok hai un'idea di impresa vediamo se riusciamo a svilupparla insieme facendo una competition quindi c'è una selezione l'ultima ha visto più di 50 candidature quindi dei territori dove non si è mai parlato di innovazione non si è mai parlato di start up in realtà invece conservano un potenziale enorme quello che crediamo ed è quello su quale stiamo focalizzando il nostro modello di crescita di sviluppo una ultima domanda vincenzo legata alle competenze dei team che poi voi incubate c'è il mondo start up che spesso e volentieri è fatto da persone che hanno un'intuizione in un ambito spesso e volentieri alle volte dipende dai casi manca poi l'esperienza fisica di quell'ambito cioè c'è un'intuizione vedendo un mercato magari il team non ha la componente interna di esperienza verticale in questo caso voi fungete anche da interconnessione con player che poi magari per cui imprese pmi o comunque sia il territorio che in grado di aggiungere quella componente poi anche di esperienza sì sì quello che dici Stefano è un aspetto essenziale per poi il go to market lo sviluppo reale della start up quello che stiamo facendo è se abbiamo creato già delle relazioni con le imprese e stiamo crescendo da questo punto di vista e essendo relativamente giovani la rete è sì importante però si sta sta crescendo lo scopo è di intensificare sempre di più questa possibilità e cioè sarebbe l'altro tema il tema che molte volte delle start up mancano effettivamente dei co founder o molto spesso se non manca un co founder manca comunque una struttura in grado di guidarli in maniera completa quindi con non con un ruolo consulenziale ma con ruolo magari che può essere un po più più immersivo più approfondito quindi sono due tematiche essenziali sia la tematica di experience da inserire all'interno di una start up sia la tematica da dire ok serve un esperto di settore serve una pmi che è focalizzata in quel settore in alcuni ambiti siamo più forti con le connessioni anche in relazione poi a quella che è i settori principali del nostro territorio che per ora è il sangue e irpinia in altri invece stiamo stiamo crescendo grazie grazie mille vincenzo benissimo vincenzo ti ringraziamo per per essere intervenuto in in questa puntata e ti auguriamo un grande in bocca al lupo per lo sviluppo dell'incubatore 6 ce ne vorrebbero ancora di più di iniziative del genere a supporto dei territori che hanno veramente bisogno e direi che ci fissiamo un appuntamento tra sei mesi così vedremo lo stato evolutivo del progetto magari anche magari anche venendoti a trovare con una puntata dal territorio che sarebbe grazie mille grazie allora con molto piacere grazie